Siamo in Borgo Santi Apostoli, una zona molto importante per un'antica tradizione fiorentina, quella delle terne. Gli scavi effettuati in Piazza della Signoria hanno mostrato già in epoca romana la presenza di un grande edificio termale e qui esistevano bagni fino alla metà dell'Ottocento. Proprio qui nella piazza era stato creato un vero e proprio piccolo stabilimento termale da Antonio Peppini ed è rimasta la sede di queste antiche terme. Questa tradizione era estremamente importante per la salute, le terme, le acque come sinonimo non solo di benessere ma anche di pulizia e nel passato questo era un elemento molto importante, soprattutto perché la pulizia era qualcosa di raro, di ricercato e quindi era considerata anche strettamente unita alla bellezza. Al prossimo episodio